Attenzione perché la tazzina di caffè al bar incomincerà tra qualche tempo, tempo un anno, un anno e mezzo, a diventare estremamente costosa, quasi insostenibile. E questo accadrà ancora una volta per via dei cagnamenti climatici. E in questo video vorrei raccontarti quello che sta succedendo e perché dovresti incominciare a perdere questo vizio completamente inutile di bere il caffè fin da adesso, prima che sia troppo tardi. Una delle storie che racconto più spesso è che il mio percorso di cambiamento è iniziato proprio smettendo di bere il caffè. Ogni tanto ancora il caffè oggi lo bevo, molto raramente, mi bevo una tassa di caffè quando magari ho un po' di mal di testa perché mi aiuta a non averlo, raramente mi capita di avere mal di testa ma mi aiuta un pochettino. Oppure quando sono davvero rintronato e ho bisogno di darmi una svegliata, siccome non lo bevo mai, il suo effetto sul mio organismo è abbastanza forte e quindi mi aiuta un attimo quando ne ho bisogno, ma molto raramente. Il mio percorso di cambiamento è iniziato proprio smettendo di bere il caffè perché mi ero reso conto ad un certo punto della mia vita che quando facevo il programmatore software bevevo 4-5 caffè al giorno, ogni volta spendevo 1 euro per bere un caffè e questo mi faceva consumare 4-5 euro al giorno che in un mese incominciavano a diventare cifre importanti. Insomma tu moltiplica, facciamo anche solo 3 euro, anche solo 3 euro se lo comprassi, bevessi 4-5 caffè dalla macchinetta che costa, non so adesso quanto costi, 50-60 centesimi, non sono più aggiornato, ma insomma fai presto a spendere 50-100 euro al mese soltanto per un certo numero di caffè che ti bevi ogni giorno. E quindi quando ho iniziato a risparmiare in maniera molto importante mi sono reso conto che tagliare piccole cose, come prendere il caffè ogni giorno, mi faceva risparmiare per ogni categoria magari 50 euro e quindi a fine mese rinunciando a 3-4 cose mi ritrovavo con 200 euro di più, 250-300 euro di più in tasca. E effettivamente rinunciare al caffè non è una cosa così drammatica, dopo un po' di tempo che smetti di berlo non ne senti più il bisogno, un po' come le sigarette, dopo un po' di tempo che smetti di fumare non ne senti più quel bisogno fisico di fumare. Ecco, il caffè quindi è una di quelle piccole pratiche quotidiane che ti spillano un pochino di denaro ogni giorno e poi a fine mese insieme ad altre cose insomma hanno un certo peso sul tuo bilancio familiare. Il caffè diventerà costosissimo come vi dicevo, per quale motivo? E questo è molto interessante da considerare perché ancora una volta diciamo è legato alla questione dei cagnamenti climatici. Ho fatto quel video in cui vi ho mostrato come la mia uva sta subendo da un po' di anni a questa parte dei cambiamenti, delle mutazioni anche se vogliamo, in qualche modo della maturazione molto importanti che rischiano di mandare all'aria un intero mercato. La stessa cosa sta capitando nel mondo del caffè. Perché? Per due motivi. Innanzitutto i cambiamenti climatici, cioè i produttori hanno sempre più difficoltà a gestire le piantagioni. Quindi il clima è cambiato molto, le piogge si concentrano tutte in un unico momento dell'estate, fa molto caldo, poi fa molto freddo, ci sono degli sbalzi di temperatura molto forti, c'è la grandine e poi naturalmente c'è la questione della siccità. Ovviamente c'è poca acqua nei periodi cruciali in cui queste piange dovrebbero svilupparsi e quindi in generale è più difficoltoso coltivare un po' tutto. Ma il caffè, che è abbastanza delicato, subisce maggiormente questa pressione. E quindi questo è un primo fattore, un primo fattore che è stato stabilito da un report di una società, di cui adesso non ricordo nome ma magari vi lancio il link in descrizione, che questo sarà un fattore che determinerà un aumento considerevole del costo del caffè. Il secondo problema è legato a una legge europea. Cioè l'Europa ha recentemente applicato una stretta sui prodotti che possono essere venduti all'interno del territorio europeo e questa stretta dice che non si può vendere in Europa prodotti che vengono da zone che prima erano bosco, che sono state disboscate, abbattute e poi coltivate. Perché questo? Naturalmente per proteggere la deforestazione, che è uno dei grandi problemi che abbiamo a livello mondiale, no? Soprattutto in Africa. Cosa succede in Africa? Succede che in maniera selvaggia, senza una regolamentazione precisa, senza un minimo di attenzione a quello che questo può causare a livello ambientale, vengono deforestate, cioè vengono tagliate, zone immense, decine e decine se non centinaia di ettari di foresta per trasformarla in coltivazioni. Questo naturalmente è un problema perché la foresta, in particolare la foresta amazzonica in Africa, è un polmone che trasforma la CO2 in ossigeno, molto molto importante per il mondo e quindi la deforestazione non fa altro che privarci dell'aria, per dirla terra terra, anche se non è proprio così, ma va bene per capirci. E quindi si vuole evitare che questo avvenga, no? E che quindi l'aria rimanga più inquinata, anche perché le piante in qualche modo fanno anche un processo, hanno anche un processo di pulificazione in qualche modo. Quindi si vuole evitare questo e quindi per evitare che ci sia questa, come dire, selvaggia e indiscriminata politica di taglio e coltivazione a scopo di guadagno, verrà vietato, è già stato vietato ma in qualche modo poi verrà applicata, questo divieto in maniera pratica, negli anni a venire, l'importazione di prodotti che vengono da coltivazioni di questo tipo. Ed è giusto che sia così se ci pensate, perché il mondo chiaramente cresce, la popolazione mondiale cresce, la richiesta è sempre maggiore e quindi con una richiesta maggiore c'è bisogno di più terreni da coltivare per avere vari prodotti. Il caffè è uno di questi, in Africa le piantagioni, come dire, vengono create radendo al suolo ettari e ettari di, in qualche modo, di foresta e quindi siccome non si potrà più fare questo in Africa, ok? Chi produce caffè in Africa non potrà più basare il suo business su questa deforestazione selvaggia, le coltivazioni dovranno spostarsi, dovranno spostarsi in altre zone del mondo, dove naturalmente il clima è diverso, la produzione è diversa, magari minore. Verrà prodotto caffè di maggior qualità e quindi meno quello a buon mercato ma di qualità discreta. Naturalmente i costi sono più elevati perché sapete che in Africa, chiaramente per una questione anche banalmente di moneta e sociale, le persone vengono pagate molto poche, quindi noi possiamo avere del caffè ad un prezzo molto molto contenuto anche se di qualità e quindi tutto questo porterà ad un aumento, perché ci sarà l'aumento della domanda e una diminuzione della disponibilità e quindi questo porterà ad un aumento del costo della tazzina di caffè che adesso costa, mi sembra di vedere al bar 1 euro, 1,20 euro, cifre di questo tipo, non so se in qualche vostra città tipo Milano, Roma o Torino, ci arriva cifre anche più elevate ma siamo la follia, no? Siamo la pazzia, 1,20 euro per una tazzina di caffè. Mi aspetto che nel prossimo anno, anno e mezzo, due anni questa stretta dell'Europa porterà la tazzina del caffè a anche 2 euro, ok? Quindi questo è un buon momento per incominciare un po' alla volta a ridurre il bisogno di caffè. Come si fa a ridurre il bisogno di caffè? Bisogna ridurre, come dire, cambiare il proprio stile di vita e semplicemente essere più riposati perché il caffè è un qualcosa che noi utilizziamo sì come piacere ma anche per tenerci svegli. Quindi come si fa a avere meno bisogno di caffè? Molto banalmente si va a dormire prima la mattina e, beh, per risolvere prima la sera, spero che la mattina non andate a dormire, si va a dormire prima la sera e non so che sembra una banalità, però è così, è così che io ho fatto per smettere di bere il caffè si va a dormire prima la sera, così la mattina quando la sveglia suona alle 6, 6 e mezza siete belli svegli e siete riposati e non avete bisogno del caffè dopo un po' di giorni che non lo prendete al mattino scoprirete che essendo riposati non ne avrete bisogno e poi in secondo luogo, la seconda tecnica è quella di smettere di mangiare una quantità incredibile di carboidrati soprattutto a pranzo o a merenda perché sono i carboidrati in particolare che ti danno quella sonnolenza che poi ti porta ad aver bisogno del caffè per risvegliarti quindi un po' più di proteine, un po' meno di carboidrati a pranzo, soprattutto a cena, non importa perché poi si va a dormire presto, ricordatevi e quindi in questo modo si diminuisce il bisogno di caffè e ci si prepara a questo momento in cui la tazzina costerà magari 2 euro prima 1,30 euro, poi 1,40 euro e avanti così gradualmente e le nostre finanze ne le sentiranno in maniera significativa questo per in qualche modo cercare di riuscire ad introdurvi verso un pensiero che è quello di togliere tutto il superfluo, tutto ciò che non serve dalla vostra vita per avere un po' più di soldi che magari potete impiegare in qualcosa di più utile che le sigarette, il caffè, i grattevinci, le riviste tutte quelle cose che oggettivamente non servono a niente grazie grazie grazie